L'Italia è lunga, anche larga. La nostra ricchezza sta appunto nella diversità della vegetazione, della flora, della fauna. Ecco il valore del sentiero che ci consente di camminare al passo delle montagne, non al passo dell'uomo che è troppo veloce e quindi superficiale. Momenti bellissimi abbiamo vissuti, si può dire, quotidianamente. L'incontro con la gente, l'ospitalità che abbiamo ricevuto dappertutto e siamo stati sempre accolti a braccia aperte. È provvidenziale che un gruppo di giovani che rivaluta questo strumento poco conosciuto rispetto alle strade, alle autostrade, alle superstrade, ma un invito rivolto alla gente per andare, per camminare sul sentiero. Il minimo era quello di dare tutta la nostra disponibilità per fare in modo che potessero rivivere loro, tutti i giovani che vorranno condividere con loro questa bella avventura che merita sicuramente di essere rivissuta perché è estremamente gratificante camminare attraverso l'Italia per conoscere l'Italia.